Musica Oggi è martedì 3 novembre, buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV sintonizzati sul 17 del Digitale Terrestre. Come tutte le mattine ci troviamo per leggere i giornali. Cominciamo dal santo però, il santo di oggi, oggi è San Martino, il sole sorge alle 6.46 e tramonterà 3 minuti prima delle 5 del pomeriggio. Allora sono 8 gradi ancora e presto ma insomma fa freschino questa mattina, infatti vedete questa bella giornata di sole che ci attende. Giornate di sole serene anche per i prossimi giorni come vedremo tra un istante con il sito della protezione civile. Eccolo qua, temperature stazionari o lieve aumento, il mare sarà quasi calmo, i venti sono appena appena di bava proveniente da occidente. Insomma, foschie, locali banchi di nebbia nei fondovalli nelle ore più fredde. Mercoledì, mercoledì domani 4 novembre, ancora cielo sereno poco nuvoloso con temperatura in lieve aumento in particolare nei valori massimi. I venti sono dai quadranti occidentali, il mare è quasi calmo, attenzione come sempre alle foschie o locali banchi di nebbia. Poi giovedì 5 novembre la protezione civile mette cielo nuvoloso per il transito di nuvole stratiformi, con deboli precipitazioni diffuse, le temperature sono in lieve diminuzione, i venti di brezza leggera da occidente, il mare sarà poco mosso. Il fine settimana vedrà comunque il ritorno di condizioni di tempo stabile. Allora, andiamo subito a leggere da dove cominciamo, dalla pagina di Fano del Resto del Carlino. Eccola qua, l'iniziativa, l'invito di un giornalista del Resto del Carlino, Carlo Moscelli, che ha scritto per tanti anni, che salutiamo naturalmente, che ha scritto per tantissimi anni sulle colonne del Carlino. E scrive nella sua rubrica, il nuovo Pepe, intitoliamo via gli illustri fanesi. Solo che c'è qualcuno che lo ha subito ripreso e ha detto, beh, ok, d'accordo, ma le donne dove sono? Perché Carlo ha fatto dei nomi, le vedete le fotografie, gli ultimi lutti che hanno toccato la città di Fano, da Ezio Tecchia a sinistra, in alto, Aldo Deli al centro, vedete, Rino Magnini, poi ancora Bruno Uspici, Nello Maiorano. Tutti i nomi proposti appunto da Moscelli. Santorelli, la minoranza, ha detto, va bene, ci stiamo, presentiamo dunque una mozione di Consiglio Comunale, però poi che cosa è successo? È successo che appena è venuta a conoscenza di questa iniziativa, di questa idea, la socialissima segretaria della CGL, Simona Ricci, ha subito twittato questo messaggio. Tutti uomini, ma una donna fanese no, è una partigiana, un'artista, una donna, insomma. Andiamo sull'altra pagina invece del giornale, da Pozzo è la pazza idea alternativa al centro-sinistra, cultura, PRG e altro, presto una lista civica, è nato un nuovo gruppo, e a quanto pare un nuovo gruppo che debba essere, sarà forse alternativo appunto al centro-sinistra, e tutto nasce dai social network, manca un progetto di Città Futura, finora sindaci succubi dei diktat delle imprese e dunque, come sempre, Fano è fucina di idee, fucina di tante iniziative, alcune si fermano per la strada, altre vanno avanti, ma insomma. Ciaschini invece, Ciaschini è uccell di bosco, da diversi giorni l'ex titolare dei Knight è irreperibile, ha mandato un sms al suo avvocato, dove ha scritto, me ne vado, proprio ieri è stato condannato al tribunale, il legale dice, spero solo che non abbia fatto sciocchezze, è molto provato, la scelta di sparire, in effetti, dice, mi preoccupa. Giovanni Ciaschini, da giorni ormai irreperibile, Ciaschini è 71enne, gestore di Knight Fanese, condannato nel luglio scorso a tre anni di reclusione per lesioni, visto che aveva sparato 11 colpi di pistola contro il nuovo compagno della sua ex donna. Poi l'altra pagina invece del Carlino tratta la notizia di cronaca di una donna che si è ferita gravemente alle dita per un incidente che è venuto sul lavoro, la mano risucchiata dalla seminatrice, la titolare di una ferramenta perde un dito, un guanto è stato agganciato da alcuni ingranaggi mentre lavorava nei campi, la donna urlava ma il marito sul trattore non sentiva, corsa del 118 e dell'eliambulanza. A Pesaro si discute se buttar giù l'hotel Principe, la proprietà si dice disponibile a farlo, si potrebbe operare con una permuta, un trasferimento di volumi, l'hotel è in condizioni molto critiche con i clienti che a colpo d'occhio fuggono. Poi l'ultima pagina invece del resto del Carlino la dedichiamo in rassegna stampa a questo pesarese 35enne che, guardate un po' cosa si è inventato, si è inventato una pedana mobile che va, dove tra l'altro davanti appunto c'è il passeggino, si costruisce questo passeggino motore perché il Seagway che è un dispositivo di trasporto personale, probabilmente lo ricorderete perché un po' gli assomigliano, però costava troppo dice lui, e quindi se ne è costruito uno tutto suo, adesso parteciperà anche alla fiera dell'innovazione, funziona bene perché ha una batteria sotto la pedana, può arrivare a 20 km orari e adesso sarà ospita anche di una trasmissione televisiva nazionale per spiegare il funzionamento. Comandante del porto premia Nemo per i numerosi salvataggi, Angelo Capuzzimato ha voluto conferire un elogio a Paolo Bratti di Gabicevare per la meritoria attività svolta come Presidente dell'Associazione Nemo Salvataggio per tutto quello che ha fatto di buono durante quest'estate, eccetera, eccetera. Allora andiamo adesso invece sul Corriere Adriatico, omicidio, c'è la relazione della Risse, stiamo parlando dell'omicidio di Ismaele Lulli, il 17enne che poi è stato gettato in un diruppo l'omicidio ad opera di due persone. Ebbene, circa 500 pagine di riscontri, c'è stato depositato l'esito della perizia psichiatrica su Igli che è uno degli accusati, Salvatore Assole che è il legale di Meta dice prima dell'anno, prima dell'anno nuovo sarà impossibile istruire il processo. Poi si parla del falso messaggio per depistare le ricerche. Sotto invece il pane all'orzo contro il diabete e il colesterolo. Questa è una buona notizia, tutta da leggere sul Corriere Adriatico. Pubblicati gli esiti della ricerca della Politecnica delle Marche sul prodotto dello storico panificio Archilei di Fossombrone. La pagina di Fano invece apre con l'ambito sociale. A Fano c'è un rompicapo. Il neocordinatore spiega il metodo per sanare le irregolarità. Debito fuori bilancio per 421 mila euro. Oggi in consiglio la delibera per pagare le cooperative, fatture già bloccate a causa di affidamenti impropri. I servizi prorogati fino a novembre e dicembre. Mandolini a Senigallia non bandisce gare d'appalto. E sopra si parla delle anomalie anche delle aziende del settore come un monolite. Sotto trasporti sanitari, nuova riunione convocata in prefettura. Dipendenti e associazioni minacciano il blocco dei servizi. L'area vasta non onora l'impegno di pagare entro il mese di ottobre. E il Natale a Fano comincia tra le polemiche. La Giunta accusa la CGL e dice sulle cifre dell'albero, quello nuovo, quello di legno, che dovrebbe essere collocato appunto in piazza 20 settembre. La Giunta dice noi paghiamo la stessa cifra del 2014, mentre Confcommercio parla di profeti di sventura. Sotto invece un'esperienza favolosa, la maratona è solidale. Marco Savelli e Roberto Polverari dopo la maratona a New York per Federico e per l'Isippo. Poi sulla pagina di Fano e Valle del Cesano, ex zuccherificio, ecco le linee guida. La Giunta accoglie le indicazioni tecniche e apre il confronto con le associazioni e con gli ordini. Parte l'iter che porterà ad una variante inserita nel prossimo piano regolatore e generale. Sopra però Mezzotero sta un po' con i piedi per terra e dice è un po' sì, tutto bello quello che c'è scritto, ma insomma queste linee guida. Però il sogno è difficile da realizzare. Il direttore della Confcommercio è critico con il progetto elaborato dall'ufficio urbanistica. Sotto invece il metauro che è esondato nel 2011, ha provocato anche molti danni sui risarcimenti. Il giudice prende tempo per decidere, rinviata alla discussione sulla competenza del Tribunale di Urbino, prima di istruire la causa. Si dovrà stabilire se esiste o meno l'eccezione sollevata dalla controparte. Nei giorni scorsi tutti a lanciare inviti, venite, venite, venite a Tavuglia, vedete, e adesso invece tutti hanno paura che c'è troppa gente, ci sarà troppa gente, quindi non sanno come gestire la marea umana di persone che si attende adesso nel paese di Valentino Rossi. Speriamo di poter contenere la marea dei tifosi. Questa è la preoccupazione del sindaco di Tavuglia, Francesca Paolucci, che non azzarda previsioni sui numeri della marea di tifosi che arriveranno domenica a Tavuglia per godere lo spettacolo tra Valentino e Lorenzo. Insomma, è chiaro che non si escludono numeri imponenti. Domenica viabilità rivoluzionata, intanto spazio per parcheggi, allestimento di bus navette. Venite a Tifarevale nella terra dei motori, anteprima del progetto nazionale per la gara dell'anno, pacchetti alberghieri e musei aperti. Questo angolo a cavallo tra due regioni è un unicum ineguagliabile nell'arco di soli 30 chilometri. Donna accende una stufa a legna e rimane ustionata dalla fiammata di ritorno. è stata trasportata nelle ambulanze al Bufalin di Cesena, non è in pericolo di vita. Nube e odore di acre di gas, ruspa, trancia, una tubatura di metano all'interno di un'azienda di Trasanni vicino a Urbino. Alcol e droga al volante, nove conducenti finiscono nei guai. È il risultato dei controlli della Polizia Stradale della Romagna e fino a Gabice. Insomma, tra loro anche due signore decisamente alticce. Adesso il messaggero, anche qui più in evidenza, tranciano un tubo di metano, un albergo e alcune case sono rimaste senza gas a Urbino durante gli scavi, inserate i tecnici al lavoro per il ripristino. La pagina delle marche del messaggero invece si occupa di Banca Marche, del buco di Banca Marche. Aumentano gli indagati, corsa contro il tempo. Oltre ai 36 in arrivo contestazioni a persone ancora non coinvolte. Lo stralcio su Bianconi e i due imprenditori per evitare la prescrizione. Vola il turismo e il comune di Pesaro fa cassa. Quasi mezzo milione l'intraoito della tassa di soggiorno e con l'ultimo trimestre si punta quota 600 mila euro. Soddisfatto l'assessore delle noci e gli albergatori chiedono di essere coinvolti sulla destinazione dei fondi raccolti. Mentre la provincia mette i beni in vendita per quanto riguarda il Santa Marta e sull'altra pagina invece la notizia del Foglia che purtroppo non riesce ad andare in mare perché c'è un tappo, un tappo che è tornato. Appena un mese fa le ruspe avevano rimosso i detriti ma la situazione è di nuovo peggiorata. La pagina 40 del messaggero anche qui su Tavuglia con questo hashtag di Twitter sta con vale e attende la carica dei 5.000 fans. Giorni febbrili aspettando domenica. Il sindaco Paolucci mi preoccupa di più la trasferta spagnola dei 100 tavugliesi si dice perché saranno quelli che andranno a vederla poi direttamente la Valencia. Pesaro si associa, venite a seguire la super sfida nella terra dei motori. L'ultima pagina invece, quella di Fano. Tutti contro la CISL per la gaffa sui costi dell'albero di Natale. Contestata la spesa pari a 21.500 euro. Il Comune dice la somma è non per l'albero soltanto ma per tutti gli eventi del Natale. Confcommercio e Confesercenti parlano di una polemica, quella della CISL e del sindacato. Incomprensibile. La creazione artistica che sarà allestita in piazza 20 settembre per le festività innesca la protesta, come dicevo, del sindacato. Scoperta refurtiva invece dentro un'auto rubata. Hanno trovato davvero di tutto i carabinieri quando nella giornata di ieri hanno fermato un'auto per un controllo nella zona di Ostra. Addirittura lavastoviglie, caldai, un televisore e altri elettrodomestici probabilmente frutto di alcuni colpi messi a segno nelle abitazioni. Poi infine qua sotto mano intrappolata nella seminatrice, grave infortunio a Monteporzio. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito. Vi auguro una buona giornata e vi vederci a domani. Grazie a tutti.